Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Mari, Boere Paolo, Leo Monti, Fari, Teto, grazie mille, grazie mille Grazie mille, cazzo Vabbè aspetta un attimo per prendere il cappellino Intanto mia figlia si è scusato Ok Ciao a tutti Giulia Paglianiti Vai vai l'ultima, l'ultima Avanti, avanti Avanti, avanti Oh Ah si è sfidanzato Nuovo? Nuovo, sì Eh vabbè, siamo rimasti noi Grazie Luca Faro Un bacino Ehm... Non ti ho preso Vabbè Ehm... Ehm... Nooo, devo fare il login Allora lo farò dal mio telefono Allora vabbè, facciamo dal telefono Facciamo io o Dennis? Sì, fallo tu Dennis Perché sennò devo farlo io e... Ehm... Una roba un po' pallosa Fallo tu Dennis Grazie amore Ragazzi unitevi al ride Ci vediamo adesso che andiamo su MusicTally Mi raccomando, siate bravi in chat Tanto io la leggo perché ho l'ipad in mano Quindi... Qua io metto a fare il pane Ma che cazzo vuol dire? Te lo sto ruppendo Con le unghie Non è una chitarra Quella scema No, 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 no Questa qua c'è pure l'amplificatore Simone! No, no Dammi una chitarra Simone, canta! Ma non è scordata pure questa? Canto Ma non è scordata che non è scordata? Canta, canta, canta È scordata Vuoi che te l'accordo? No, voglio che stai in silenzio ora Ti piaccio? Non sto mai eh Ma va a cagare Ma in realtà non sta male Però più che altro Boh, c'è Non può ridere Cioè Pelirosa Per me è personalità Ma no, personalità per carità di Dio Però dipende da che personalità Ma avete già visto La... No La challenge quella dei rigori, no? Sì, sì, l'abbiamo appena vista Eh? Eh niente, Rubino è lì che sorride da un'ora Quindi... Sembra l'inizio di un porno Non sembra un episodio di Andrestred È quello che un po' mi preoccupa Però, vabbè C'è un bel fisico Si sta Bene Ho girato un'occhiata al lato B e... Oscar e Asia, giovani e belli Non hanno perso tempo inconvenevoli E si sono svestiti in tutta fretta Ma se vorranno conoscersi davvero... No, dimmelo, dimmelo Dimmelo in faccia se hai le palle Non puoi parlare già Non puoi parlare Perché non posso parlare? Sto parlando quanto cazzo voglio Non voglio Ssss Dimmi, dimmi Eh, dimmelo Eh, dimmelo Eh, cos'è, cos'è? Qualcosa contro di me, eh? No, lo chiamo Cambiato da questo Ma è un bipolare, il bro Sono in tutto posto? No, no, no Siamo in tutto Siamo in tutto Grazie, puoi tornare Ho portato pure una sapa una volta Una cassa idea rotta E devo dire che... L'unica persona che mi è dispiaciuto che non mi abbia visto Ma probabilmente mi ha visto È stata mia nonna Ah Che... Si è andata... A Natale Eh... Però diciamo che per il resto tutti quelli che dovevano vedere di cui ho... Di cui ho... Volevo che vedessero e che... Mi dicessero un po' Dirige l'orchestra il maestro Fabio Gurian Buonasera maestro Con il codice 20 canta Rosa Chemical e... Rose Villain In realtà hai annunciato pure Rosa Chemical Assurdo Spaccato Che figlio E poi sei rientrata cosa hai fatto? Non so nient'altro Farmi spaccare la testa Non... Non è che sia proprio intenzionati Cioè... Potrei volendo, sì Dovrei farmi operare Farmi sfondare il cranio Quindi... Sì, sì, sì Sai che è? Me lo tengo, va bene così Sì, sì Oh, eccolo Don Ambrogio innanzitutto Ciao Come stai? Ciao Don Bene dai, abbastanza bene Ti rinnovo le scuse Un po' che non ci sentiamo Io rinnovo le scuse Don Ambrogio per quella scorsa volta con Di Pre Sei tranquillo che è andato di pre Su questo canale non ci sarà più Quindi... Senza pennina Certo Però in realtà Dicono che Gli uomini Eh, lo so Con la roba nel culo raggiungono un altro tipo di orgasmo Io ho provato A parte di scherzi Un po' di tempo fa Con chi? Ma è così strano se l'ho fatto da solo, Dio Cristo? Sì, cazzo E vabbè, vaffanculo Vabbè che lo fa chiunque E... E mi fa veramente schifo E... È stato assurdo Bello Ci stava nel Milan Eh sì, c'era anche il Milan Infatti stava un po' Stava un po' switchando Però ci sta Ci sta Gli hai tolto la testa dal tuo cazzo? No, no Non volevo dire La testa Che brutta immagine Mamma mia La testa Che mi metti tipo via Faccio la storia a Jody Mamma mia Scusate, non volevo leggere sta roba Anche gli autogol sono... No, però a parte gli scherzi adesso Senza fare il gag e tutto quanto È stata una bellissima esperienza È stata una bellissima esperienza E anche la mia è carina Non mi fanno mai commenti sessisti Li vanno Capita ma li vanno anch'io Chiaro Chiaro, chiaro, chiaro Smetti di fumare sta roba Sembra ogni volta che mi porta un gai Senti, sono dipendente della nicotina Cosa ci posso fare? Smetti, tieni L'ho fumata dall'inizio live Ecco Ti fanno la gola? No Ma facciamo delle domande a lui No, dovete farmi delle domande fatte Quali sono le tue preferenze sessuali? Non ti rispondo Eh, ma allora perché scusami Noi siamo Diventa pesante dopo un po' Diventa veramente pesante Basta Sì, sinteticamente No, no Non è colpa mia Io posso parlare anche un'ora E tu non devi parlare un'ora No, non puoi parlare un'ora Perché continui a parlare per un'ora Parla pochi secondi E di quello che devi dire Assolutamente no Perché tu non ti rompi Non parlare Non parlare tu Non litigate No dai, bros State calmi che è qua No dai, raga, dai State calmi che è Invece a litigare Non parlare più Chill 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 Oh, genio matematico Non tolca Non lo conosco Andate nel 1988 Mimo, interesse verso di te Cioè non ci penso neanche Non è Poi sì Magari ti posso conoscere Posso parlare con te Posso fare delle chiacchiere Però ci penserei molto 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 bene Sta giusto Valeria Sì sì Io la penso così almeno Cioè Per me di essere qui Ci deve essere un interesse Da parte mia Ma non interesse per forza Diviente vostro innamorato Ma Valeria Che è Valeria? Eh, no Eccola Scusa perché Pensavo parlassi con me T'avevo detto Lei chiaramente si chiama Cioè Mi piace Falla mattia tardi A pressione Se vuoi pranzo Eh pranzo Tu arrivi A che ora? Eh io arrivo Cioè ho la pausa Dalle 1 alle 2 Vabbè dai Mangiamo veloce allora Un boccano al volo Eh un boccano al volo Un boccano al volo Scusa Ho sbagliato davvero ancora Ho sbagliato poco E quindi Ma in centro Vicino Nella Come si chiama Quel monumento che avete in centro Il La molle La molle La molle antonelliana Esatto La molle antonelliana di Napoli Di Torino E ero lì vicino C'avevo l'appartamento praticamente Sulla parte antonelliana della molle Ma dai davvero figo Sì 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 era bello Vedevo tutto Vedevo gli antonelli Tutto Veramente No 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 Non sto scherzando Da parte gli scherzi Allora Allora Allora